Benvenuti ragazzi, un corso migliorissimo video Magari parlare con i ragazzi se voglio fare questo video di mostrare le carte di quelle 17 e del 2018 ma ho preso altri 10 pochetti che sarebbero questo mazzetto vabbè ora vi mostro le altre carte vecchie per vedere se vabbè allora qua abbiamo l'Emitent Edition di Magic ecco abbiamo Super Draft di Caprari 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 si otteniamo Calunice Top Plus eccolo qua lo metto qua poi Onus Plus poi abbiamo Culembarine poi Poi Papoletti poi Musacchio vabbè ragazzi non vi faccio vedere così vabbè lui Poi proviamo chi sa Benassi Chic o Douglas Costa Malek Gonzales Le Linetti Gaspar Cristoforo poi Pioli Benass Plus Idolo Bonucci Montadivo Montella Plus Slinici Plus Plus Inzaghi Poi Pazzini Idolo Poi Mani Top Plus Cutrone Toloi Duanzapata Top Plus Oliera e Astori Questo mazzetto lo mettiamo da questa parte Aspettate Allora Ora Prendiamo il Semplici Plus della spalla Poi 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 abbiamo Caicedo 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 Si Plus Anche l'allenatore Poi Abbiamo Ciesto 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 Ecco Poi Spalli Matri Aspettate Poi abbiamo Idolo Alan Poi abbiamo Marchese Idolo Poi abbiamo Splas Doppione Gasperini Plus Eindeser Sofraen Eccolo qua Gaiardi Eccolo Eccolo Allegri Plasso Poi Poi Borrillo Spallo Masina Eccolo Costa Cessere 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 Con la roba Con la roba Con la roba Scusate ragazzi Poi Linconno Idolo Plus Poi Orsolini Marco Borriello Niccaiari Federico Fazzi Ecco Idolo Plus Bastian Bastian Allenatore Baroni Poi Dosan Basta Poi Poi Favosi Gulam Che era una doppione Nel coltrone Budim 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 Nella B VL Top Plasso Verdi Top Plasso No Verdi Sperda Scusate Lui Cerci Poi Scorpix Non lo so Scorpix La buona cosa di questa Scorpix Conti Agosti Giampaolo Plus Under Plus Borca Valero Boria Valero Qua Eccolo Poi Poi ragazzi Qua Borgia Poi Sono fortissimi Comunque Poi Lui Lui Alexandro Nicolás Palaccio Top Plus Pezzella Attei Georgic La Padula Birsa Cesar Baselli per lì c'è il moto di top plus di nuovo, Pazzini, Idolo, Savic, Zacchmini, Biglia, Ranocchia ragazzi un attimo un attimo Questa la città. ora ragazzi abbiamo orugani super draft c'è la faccio questo è fortissimo ragazzi non potete capire non potete capire da una scosta stella c'è da una scosta stella ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto arriviamo a 12 like no diciamo 20 25 quanti volita ragazzi